Dante incontra ancora il cuore dei giovani. Come mi diceva una studentessa stamattina, Dante ci mette in moto, cioè continua a provocarci e entrare in dialogo con lui. Quindi non si tratta soltanto di parlare di Dante, ma parlare con Dante. Verona città dantesca, fonte di ispirazione per il poeta che qui soggiornò ospite di Can Grande della Scala, a cui dedicò la Cantica del Paradiso. Ma qual è l'attualità del genio fiorentino oggi? L'importanza di ricordare Dante oggi e sempre, quotidianamente nella nostra attività di insegnanti e di appassionati, perché io sono ben contento che ci siano queste celebrazioni dantesche. Però quello che conta è il lavoro quotidiano, lento, paziente, che magari sembra non dare grandi risultati. Invece questa è l'attività della semina, che troverà senz'altro risultati in futuro. Dante unisce nel suo poema specialmente cielo e terra, cielo e terra, e le due dimensioni non sono mai separate. E poi mantiene sempre una visione positiva, ragionevolmente positiva della realtà. Anche quando scende all'inferno e parla della selva minacciosa, amara, come la morte, però dice di averlo fatto con l'intenzione di parlare del bene che vi ascorto, del bene che io vi trovai. Quindi il limite, il peccato, la difficoltà non determinano mai completamente la vita. Non sono l'ultima parola. Negli anni Dante è stato riscoperto nelle scuole e l'insegnamento della Divina Commedia sa portare ai giovani i principi di grande attualità. C'è sempre qualcosa per noi, c'è sempre qualcosa per noi. Cogliere un particolare che poi ci apre al tutto. Quindi avviciniamoci a Dante, leggiamolo soprattutto senza paura, con convinzione, perché lui continua a parlarci. Grazie. 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 Grazie.